Allora, i primi tre cadaventi sono stati trovati in questa zona, qui, qui e qui. Il quarto è stato trovato qui e temiamo che l'assassino si stia nascondendo in questa zona. Ci sono domande? Sì? Chi è l'assassino? Ovviamente non lo sappiamo, però abbiamo assunto i più grandi conoscitori di tutta questa zona della città. E chi è? Si chiama Sensei Ra, fatelo entrare! Benvenuto Sensei Ra, mi hanno detto che tu sei il migliore. Ma prima voglio metterti alla prova, facendoti delle domande. Come si chiama il sindaco di Bruxelles? Giusto, giusto, bene, hai risposto bene. E suo fratello? Ha proprio ragione, non ha un fratello. Un'ultima domanda, cos'è questo coso e cosa ci fa qui? Va bene, mi hai convinto, sia figlio di caso. All of time's have come. All of time's have come.